Siamo la compagnia Garbuggino Ventriglia, siamo qui al Festival Chilowatt, felici di esserci. Portiamo in scena O Pesce Palla, La vita dalla terra, uno spettacolo che ha debuttato nel 2018. Ed è il terzo lavoro intorno all'archetipo del Don Chisciotte. La nostra scelta donchisciottesca, perlomeno la mia intanto parlo per me, è quella di dare poesia pura. Sono felice che ci è stato riconosciuto anche questo ruolo di recente in una bella recensione scritta da Porchedu, in cui ci ha riconosciuto appunto il ruolo di mantenere viva la poesia e che questo ha importanza a livello civile, politico. La mia politica è tenere viva la poesia, penso che attraverso la poesia possono avvenire rivoluzioni. Sì, vivere Don Chisciottesca è l'unica forma di rivoluzione che avviene all'interno della persona. avviene molto presto nella vita, tu sai già che la vita tua andrà donchisciottescamente. È una cosa che non ti puoi inventare. Forse è per questo che in questo spettacolo portiamo in scena esseri umani donchisciotteschi, più per vocazione che per scelta, la scelta magari arriva dopo. esseri umani che non vediamo magari in giro nelle strade illuminate, ma vediamo da qualche altra parte. Che difficilmente diventeranno famosi. Come noi.